musica 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 ah che devo fare una cosa sto fino all'ultimo poi dopo ho preso tutto no allora scusate a te mi sia male come gary aspetta che adesso a gary li ricompo e ha raffa è vera sta notizia non so se tu sei più svezza la quarantena è paralizzato torna a camminare grazie a un ponte digitale tra cervello e midollo spinale purta l'ho fatto io potrebbe adesso non so cosa gli abbiamo fatto però che miseria da quello che ho sentito io che manda il cervello che sono comunque impulsi elettrici non lo so bisognerebbe vedere cosa abbiamo fatto io ho letto un articolo che non mi ricordo dove stanno sperimentando la stampante 3d per sostituire il pezzo di colonna danneggiato e cominciano la persona a ricamminare madonna allora qua dicono che gli scienziati sono riusciti a dare vita ad alcuni impianti che hanno permesso di fare da ponte digitale tra il dell'uomo e su midollo spinale bypassando le aree lese ok il recupero della capacità di muoversi in modo naturale ha necessitato alcuni anni sti cazzi intanto ci ha riuscito appunto che non è una cosa non è una cosa un attimo del logo soggiorno un attimo il v è una bella notizia no basta con le foto no la stanza fatela con il warlock perché perché la potete soltanto con il warlock non è vero controlla controlla è scritto espressamente soltanto chi ha preso la staffa la potete e che c'entra il warlock non te la conto come monte non me la conterebbe neanche cioè non me la conta neanche su warlock si fatela con warlock te la conto perché dovrei farla con warlock ma boh cioè non capisco il tuo ragionamento perché il paladino non la può prendere eh ma se il paladino non la può prendere che cambia da dove la faccio è il warlock al sistema del paladino adesso no come no si no babbo no perché dovrebbe cioè io sono privato ragazzi dai fate i paladini ci siamo dedicati noi di stomaco non ci piace sentire la gente che si picchia tirati più sciacolo ah dove sei qui perché ma la metti dai veste di minchia il versione mitica il warlock ha quattro mount meno del paladino cazzo è 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 tanto che aspettiamo facciamo il primo mitico perché non mi compare però la cosa qua però sciaga depilato quale laddol porca miseria ragazzi quando simulate c'è un modo per mettere gli oggetti come se fossero già gradati fai sul più e poi dopo selezioni il grado di upgrade legge anche e poi dopo lo devi selezionare si legge anche quanta roba hai nel da poter andare fin dove puoi gradare con quello che hai nella bag infinito come la politica dei rotti non si può ruttare no non anche la l'incratura portare in casa mia rutto in faccia a chiunque mi passi vicino facca voglia e quindi il papà il ciuffo gli facciano via con uno dei capelli aiuta a cambiare i connotati a te o vuole combattere che combatta con i rotti anche tipo fate come onda energetica con goku quando tirano tutte e due le onde insieme e poi vede chi è che vince dei due non erano gli accapp fantasmi non devi incrociare i flussi cosa ti farei al flusso ma che cazzo è il mitico che non devi incrociare i flussi c'è un problema di bacca cosa sta succedendo c'è un problema di cina gold il problema c'è cos'hai detto mosca un'altra voce questo era un summon ragazzi assi arrivo adesso aspetta un secondo solo sono cercano dentro d'archi fatemi spegnere qui ci velo qui ci sono non capisco perché non mi fa non ti faccio mai questa volta no skyca domandolo che mi fa mettere più impostazioni di talenti perché basta bastardo chiama hacker di sicuro te lo è da ban quella donna non te lo vedrai di niente no vabbè però non me lo segno eh sì è più forza da ban perché è da ban perché? perché le altre cose si comprono mi sa le altre altre pagine di cose mi sa che sono acquistabili no ma cazzo c'è dovrebbe no no uso nei tanti io spero che banni la sciacca va bene eh lo so va bene non capisco perché non mi si apre a fianco devo usare la catena giusto per arrivare dove dobbiamo che ti fa? dove si trova la catena? sopra? si si può entrare giusto? perfetto si si ci sono tanti massimi no come lì giusto non è mica qui la catena eh aspetta riparate prima di partire si dopo salite andate a sinistra salite sulle scale ah ok si si allora si basta ci sono ci sono ci vede corri eh corri ma sono paude ah rosario è andata via la corrente mi ha detto mi ha telefonato adesso è la donna su ci sono i mob ci sono i mob vuoi qualcuno che ha piatto una buffata ci muoniamo qua giù è colpa di LVI nico ha tirato darkness o sono tutti sti sciamani che hanno fatto shell lighting insieme un altro giù al sumo non so non arriva nulla aspetta che arriva aspetta che trovo un altro sumo mettolo qua proprio ma tu mi hai mandato il pagamento via mail si al cuore dei miei altri hai mandato secondo te ah ok è un altro uno che iniziava per ho sono tutti uguali c'è un po' di fantasia nei nomi eh no dai adesso voglio fare uno che si chiama suenai 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 io sono qua e sono arrivata ok grazie grazie subito subito Fabio ah si fa continuare con l'hc si c'è qualcosa che ti ha spronato a continuare? a continuare il tuo culo che siamo tanti di meno conviene fare norma lunedì però è tutto è un po' di fantasia ma non è ancora ma non è ancora ma sta bella per carità io non so se la stata giusta questa che sto facendo eh siamo 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 smonando ok perfetto ma da che dobbiamo andare? da quello smilzo scam quello che non mangia quello che non mangia oh mio dio mi hanno detto che mi hanno detto che magmorax è come il normal è tipo uno scherzo è veramente identico al normal è un paletto magmorax poi magari c'ha delle delle skill in più eh è free loot magmorax mi sentite? si è in sciocca è praticamente un intero isolato soltanto il mio palazzo senza luce vabbè mi sento gli allarmi mi sono dando il saccheggio già ma quanto sei coglione ma che cazzo mi sono riuscito a me perché? stai rubando una macchina la sciocca che senti? no mi è riuscito 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 allora Tato non aveva non aveva fatto ma non veniva Tato si veniva ti è offeso ti ha ricrasciato sciocca vieni mi sa che la luce che ballerina che sfiga che figa ma via la luce che figa ma via la luce figa manca Tato da sfumare anche lo snacky lo snacky si e' già in gruppo non lo vedo dobbiamo invitarlo sto spugnettando qui ci sono i cecini ecco su maniamo lo snacky sono sono bello loco come Shakala in realtà è stato arrestato durante questo furto d'auto proviamo contro i tank sappiate che brutta tua mano ah è vero le ferite aperte di benedetto ma fate tre imponente fate tre tank per le per le bombe così non devo farlo io grande no fallo tu non vuoi ho tanto gente con immunità qualcuno ha già visto la roba dell'evento di Diablo no in che senso ogni 30 minuti in tre in tre posti spawn c'è in un posto a rotazione sul tre spawna un goblin e se lo uccidi c'è c'è dei loot dei toy una mount che può droppare inoltre droppa degli oggettini che si ha nell'inventario ti potenziano finché c'è l'evento anche dentro il raid anche se danno veramente poco quanto dura? questo evento dura un mesetto vabbè allora ci avrò tempo ma di meno ciao ragazzi buonasera ciao 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 e i punti dove si può spawnare quali sono? allora stormwind or grimmar o un punto qualsiasi delle zone delle dragonail che però se sta nella zona te lo dice che è suonato ed è in uno di questi tre posti sì ma è fisso cioè va a rotazione in una rotazione fissa ah ok il problema è che ogni posto centinaia di players ci vanno e diventa un lagfest praticamente come warboss vedremo diablo è un bel casino però perché la voglia di giocare c'è tanta eh io devo prendere ogni singolo item che danno in questo evento danno 3-4 armi e il bellissimo cappuccio con back sembrano quelli nuovi che stanno mettendo altri in post poi danno due toy il tyrant charger come mount quello che ho andato che poi lo mettono probabilmente nella prossima mezza patch lo mettono al mensile e poi il tyrant è vecchio con 5 o 6 anni eh sì è che di sera c'è un'edizione speciale di diablo e al diablo 3 c'era una promozione però hanno rimesso per una settimana qualche mese fa e adesso c'è questo evento ah che bello pochi 3 però tanto smith io sto summonato dopo smith no ma sono quasi siamo già al boss e sarà figa quanti aspetta che hanno quelli dietro perché ne escono pochi però dico almeno che ne so una terra stimolata dico qualcosa questo non deve essere simpaticissimo come elimine sempre sembrino genos e schiere tre piazzate in realtà non sono le bottele delle bombe ma sono i nostri non deve essere più semplice del ride questo boss ineroico no tu già tu non l'hai già fatto mi dà questo qua si l'ho traiat è traiat sì sì siamo arrivati al 15 10 15% ciao 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 sono un alcolista faccio un spiegoni noiosissimi è la nostra migliorina benvenuto grazie non batterai mai rimbattito facciamo un po' di cazzimma stasera vediamo un po' come va perché Beppe tank triplo tank vogliamo fare yes va bene ci sta non ci avevo pensato ma ci può stare quindi Beppe distruggi le bombe basta praticamente no le distruggo io quindi tankiamo io e Beppe eh lo so mi dispiace mamma mia allora facciamo un mini spieghino allora Norman l'ha visto tutti? sì 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 ma lo usiamo allora per capino quindi sulle solo le cose che dovete fare allora questi cerchietti per terra sono trappole che si attivano durante il fight il boss periodicamente ne attiva due vicino a lui quindi partiremo a tankarlo qua un pallino e eh ne attiva due in giro per la stanza quelle in giro per la stanza tendenzialmente quelle in mezzo alla stanza vanno pulite come vanno pulite ehm ci sono dei golem li grippiamo stunniamo rallentiamo perché loro cercano di attivarne delle altre extra quindi non devono assolutamente avvicinarsi a una mina li ammazziamo diventano interagibili dei dirigibili eh si può interagire col mob morto ci si clicca col tasto destro vi viene fuori il tastone col tastone potete cliccare su una trappola attivata sono cliccabili cliccate sulla trappola cliccate sul tastone e la trappola sparisce le trappole non ci dovete entrare ovviamente ogni volta che ci entrate vi metto un dot da 6 secondi che in eroico fa malissimo quindi non ci dovete entrare di vostra spontanea volontà semplicemente masochismo e non dovete eh farvi sbalzare dentro a un certo punto chiamerò il classico sbalza e dalla sua posizione balza e vi manda indietro un pochino quindi se avete dietro una pozza vi prendete il dot ci saranno delle bombe delle pallette grigie rotonde quelle le prenderà il tank che è il nostro buon Ascalon e o persone con immunità possono anche farlo se avete qualcuna scappa possono possono usarle tendenzialmente tenetevi i cooldown difensivi e l'immunità per sopravvivere più che per rompere le bombe siccome andiamo contro i tank l'ultima cosa è che in eroico di extra mette un cerchio rosso sotto il culo mentre dobbiamo muoverci e scappare ovviamente date un occhio a non andare in mezzo al gruppo chi ha il cerchio e gli altri a non andare sulle persone col cerchio vediamo un po' come va massimo ci aggiustiamo quei movimenti e l'ultima cosa è che in base a dove lei lui lei non so cos'è ballo attiva in normal 3 in eroico non so forse 4 in attiva in eroico di queste statue che inizieranno a riempire la stanza di di fuoco fino a 3 se non ho letto male una volta 2 poi aumenta ci diceva la guida ok quindi vabbè quelle che sono comunque attiverà le 3 più vicine a lui quindi in base a dove è il boss dobbiamo correre dalla parte opposta e useremo i nostri fantastici roar bisogna schivare intanto le pozze e basta questo è quanto la cosa importante più che il dps all'inizio è mantenere pulita la stanza il più possibile quindi i golem non devono attivare nessuna trappola extra e bisogna pulirne il più possibile di quelle in mezzo perché in eroico dura di più e si attiveranno più trappole domande? e i golem ci facciano su una nave 4-5 arancioni che fanno un male cane quello che richiede l'attenzione degli healer si c'è la sua posizione quando fa la fiammata da una parte della stanza spavano i golem uno vicino a lui due alle nostre spalle è importante girarsi perché quei due alle nostre spalle hanno la tendenza di correre sotto al fuoco e attivare le bombe quindi stun grip interruzione si qualunque cosa giordano funziona cioè stun grip radici qualunque cosa quindi se avete qualche attrezzo che non avete messo è buona cosa singoli target perché tanti golem sono separati giro perché chiamano ripiano la bolle bombe chi le sono tutti quanti o andiamo con tre tank che tu sappia i golem subiscono fiera penso di non lo so dar chi è mai provato funziona una strana serrat di solito quando l'ho fuggato i ranger si giravano perché due vengono alle spalle e corrono direttamente dove sta il fuoco no ma la domanda era fear funziona o solo non lo utilizzavamo utilizzavamo un blocco uno stun e poi due di cappa li grippavano fuori dal fuoco quando andavano troppo vicini ok quello si può fare metto avete mangiato metto il calderone vedete come al solito una trentina di poze sono sei stack 30 e non 300 30 a livello non servono a livello non servono no no un sacco di dps fate le caramelle l'occhi grazie le melle ti hanno multato ma l'ha fatto sono caduto tre volte sono andata via corrente soltanto c'è caduto altri 9 dal letto no ma ho vestiti quindi tranquillo dalla maca tu sembri uno che ha una maca non mi ricordo time warp alcune a pull qualcuno può dire ai dractri di smettere di fare l'oggetto leggendario lo fanno per sbeffeggiarmi poi esatto poi romevo ogni cosa se lo sembra no non è che deve fare qualcosa per prendere il gendario ma devi incidere l'ultimo cosa prendere il gendario non ti sembra abbastanza non ti aspettare che però dai concentrati andiamo andiamo cattiveria all'inizio pallino forse all'inizio solstone l'abbiamo fatta 5 4 3 2 1 time to analyze your threshold for pain tiriamo il centro via l'orario quindi balza tanto per te ogni 5 6 start ci muoviamo ci muoviamo sinistra via sinistra e tienimo qua di fianco le coste un po' di più ok arrivano le bomb cazzo sbagliate e no aspetta knockback resisti 10 secondi destra andiamo via quindi correre rohara cazzo altra parte cazzo qua vediamo qua è meglio se lo tengo da parte a posto poi comunque si ogni volta che ci scade le battle lo tranchiamo valsa uno valsa tra 8 secondi dobbiamo correre via arrivano i golen rohara su jack via ciao ciao peta chi knockback aia ok ok bombe non ci sono un'immunità sei l'ultimo tank in vita vabbè adesso 50% ovvio c'era in dio c'è una cazzo trovo molto peggio c'è una cazzo sì ce l'ho ok schippiamo allora ho hit mo hit ah vedete che le pozze iniziano a essere tantissime quindi vabbè a parte un paio che l'abbiamo messa di cacca io bette non rilasciate dobbiamo pulire quelle proprie scusate ma ho provato visto che era il primo try ho provato a creare un po' come si disattivano le bisogna non sono riuscito a disattivarla se non entrando un pochino nel ma devi cliccare nel raggio di su io ho cliccato ma anche me non l'ha disattivata avevo un affarino dobbiamo un secondo le trappole adesso sono disattivate quando sono attivate se voi andate sopra col mouse e ci schiacciate le potete targettare questo è come non ti viene fuori l'extra button della classica ti viene fuori l'extra button se lutti il golem morto quindi una volta che hai il fatto ah si si scusami c'è il bottone però se si tracci il bottone basta non succede niente devi andare vicino ma non dentro il fuoco vicino a una mina attiva è quasi al bordo Marco è quasi al bordo eh perché non riuscivo cioè a me non dava il bottone extra devi andare proprio vicino 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 al bordo perché magari te l'ha rubata Fabio c'è qualcun altro che ha cliccato più veloce non lì da solo magari non l'ho visto cioè mi si è trasformata l'icona in una sorta di tenaglia quando ho lutato ho interagito col golem però poi se io lì vicino non mi appareva l'extra button tant'è che pensavo di avere un problema di interfaccia secondo me potrebbe aver anche fregato qualcuno allora l'extra button l'extra button viene fuori appena l'util il golem non lo stra button quanto ti ha chiesto la button comunque per ricapitolare se cliccate sul golem viene fuori la stra button e è quasi al bordo del fuoco dovete andare e cliccate sul cerchiettino quindi su questi cerchiettini qua dove c'è il verde e in quel momento se cliccate lo stra button parte un raggio di fuoco che la chiude da voi quindi vabbè ci può stare che adesso bisogna aggiustare un attimo e prendere la mia andrei scusa una domanda prima a me è venuto fuori il cerchiettino quello rosso il corino cioè devo stare semplicemente lontano dagli altri non è che fa esplode o fa cose ti fa una sbonta di danni a te e quindi tirati il difensivo e stai lontano dagli altri no perché ero stato in range praticamente perché non mi ricordavo cosa faceci francamente sì sì piuttosto meglio staccarsi un attimo che va bene e mettere gli altri ok strabatto strabatto ja 1 1 6 2 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 Ok, pronti a correre Ok, pronti a correre Ok, pronti a correre Ok, pronti a correre Andiamo verso destra Guardando destra Vieni, vieni, vieni Siamo qua Le bombe, le fatti giù Knockback Fammi spostare Poi lo prendi Vai, vai Ok, pronti a correre Questo sarà un roar BC Jack Urla luta Ok, pronti a correre Abbiamo Devo aspettare un attimo Adesso non so dove dobbiamo correre Adesso non so dove dobbiamo correre Ok, pronti a correre Ok, pronti a correre Ottimo che pulisci la trastola Lo portiamo sulla colonna Che hai sulla destra Knockback Urla Valcarra Ma non è morto Spendi il boss Tra 4 e 3 condici Spendiamo Andiamo Non c'ho l'immunità se fa le bombe Un angolino quadro Scusi C'è un golem C'è un golem là in fondo Se l'ha interrompato da fuori Grazie Ha interrompato fuori Aia Pick up, no? Eeeeeeeh No Ok Scusi Scusi Occhio Ho spinto Sei da solo eh Ok Ok Ma c'è un casco Scusi Tampalo Guarda che non sono più Tranquillo Te lo tampo appena appena mi scada Siamo qua pure Dobbiamo correre No Mentre E' un'altra Rappunto E' un sacco E' un sacco Stai Chiunque Scusi L'ultimo Scusi Questa Che Di Scuola più problemi di tutto è un bidone però come dice io sì se non salite sugli altri è meglio beh questo è sempre un buon remarketing l'ideale è che abbia il cerchio stia fermo e si spostano gli altri perché sennò rischia che si spostano entrambi è un casino è un po come diurna quando c'era il covid siamo la miglior gilda del mondo il covid agli elementali neanche in cina così bene se non avete la wikawa quella completa comandato del ride mettete questa troppo grande è troppo grande e scendere nel salire cosa fa questa perché io ho paura scaricarle questa vi dice semplicemente quando sta per arrivare lo sbalzare indietro così ho visto che il dot che lasciano le pozze fanno un mare cane quindi più evitiamo secondo me più aiutiamo l'idea che secondo me una di quelle cose che fa molto male come un virus una domanda che sa qualche lato da pulire prima con le bombe allora si vuole le prime le prime allora visto che i golem li attiva riattiva praticamente quando iniziamo a correre quindi a quel momento ne avrà già fatte quattro intorno al pallino e ne avrà fatte quattro in giro per la stanza di quelle quattro ne possiamo pulire tre praticamente quindi prendete quelle in mezzo alla stanza se sono sul bordo dove ci sono i come si chiama i i draghi dove ci sono le statue quelle lì lasciatele pure lì ok e tendenzialmente tieni conto che corriamo sempre da un lato all'altro della stanza quindi se siamo partiamo dal pallino immagina poi ci spostiamo sulla luna dalla luna correremo alla luna correremo al verde quindi tendenzialmente tra il verde e il viola dovrebbero essere pulita quella zona la se proprio dovete pulirne una che non è in centro o non ne ha messe in cielo pulite sempre quelle opposte a dove sta il buono è stato rimandato l'esonero a di cinque giorni grande ora sono convinto comunque quando morire di fronte a voi e rilesate ci sta un diamante lo cliccate di volta direttamente qui comunque quando uno prende la mina dato che le prime i primi che ho anche fa è quasi sempre con nessuna pozza al centro si può ottenere il coso o scade si può ottenere e allora meglio tenerlo la prima volta il primo giro forse ma donna edo si è veramente un piccolo genio è grazie all'esonero che vanno spostato studio 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 famiglia vediamo un attimo golem mi c'è un problema te lo metto in questo no provaci se funziona bene se funziona bene dimmi poi magari sono ai tai ba c'è l'ho scaricata ma non è l'attimo che non l'ha vittuato che ci pensiamo un altro pesando dove c'è un doni un noni 5 4 3 2 1 time to analyze your threshold leoni sposte quest'area knockback in 3 secondi lasciamelo più in che lo sposte metto poi lo prendi tu un po' perso tutto leoni fermi i cerchietti gli altri si spostano fermi i cerchietti gli altri si spostano knockback in 5 secondi quindi opzioni lì non farvi sbalzare sulla costa tranquilli che non c'è non potete essere sbattiti giù dalla stanza add add eeeh roharta qua andiamo a destra destra un primo knockback ottimo ok portare un po' più in qua e lo facciamo fare con queste due ok 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 un attimo in questa posizione di merda 3-3 secondi ci dobbiamo muodere add dico ok 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 Dovete dare una mano anche voi a grippare sui e dapp... Eh, è stato molto morto. No, no, lì. Beh, stop pure, moriamo. Sì. Comunque vi informo dove c'è Wipe, che dura un minuto il buff delle... Ok, c'è da darla. Un minuto, fate tempo a usarla magari al giro dopo. Non al... quando mette le prime, poi al primo giro che rimette dopo la prima corsa. L'extra button mi è uscito da morte e non da vivo. Questa è grave. Raga, ti consiglio. A meno che aspetto una... Ti consiglio BM, Shaka, per questo vai. E per tutti gli altri. No, BM no. Ho cancellato le mago di BM, mi devo rimettere un'altra volta BM. Per chi è cancellante? Perché sono imbecille. Eh beh. Vabbè, ormai rimane in consiglia. Ok, avendo cambiato la lingua del gioco, ho dovuto rifare le cose e finire ho cancellato. Ho fatto dei ragionamenti e ho deciso. Che è meglio BM per il ride. Una cosa fondamentale, quando fa il knockback, cercate di vedere che dietro di voi non ci siano trappole attivate, perché se finite sopra le trappole è un problema. Poi tipo, stavo pensando magari per aiutare un po' di più con le cure, potremmo magari mettere un marchio, che ne so, su Darky ad esempio, range, dei range stanno più o meno lì. Che è il solito discorso dell'altra volta, parecchie persone, io sono fuori range. Vabbè, io metto un riferimento su Darky, però tendenzialmente... Paro, ho sparato come caso. ...è il range del boss. Il verde. Comunque tenete conto che anche quello che dice Romeo è giusto, se siete tutti vicini... Io vi chiamo quando arrivano i cerchi, però allora lì dovete fare a molla. Andate vicini e poi state lontani. In generale state nella zona, comunque, non andate lontanissimi. Poi ovviamente qualcuno deve correre in giro a... Sì, sì, beh, quello so. ...fendo le cose. Odile, vi sa, un po'. Sono le braci quelli che attivano le fiamme, giusto? Dragon, flame... Quello che attiva le fiamme è Tactical Distratto. Quello che attiva le statue. Distruzione e tatt. E quello che attiva... No, le braci sono le... I cerchietti. Rossi, su due chiappe deve essere... Vai. 5, 4, 3, 2, 1... Time to analyze your threshold for pain. Rock rec. Rock rec. Oh, dead. Sorry. Ehi, libero. Ehi, libero. Bebbi. Ehi, libero. costsola. Ehi, libero. Ehi, libero. 1 2 6 6 6 6 7 8 9 10 10 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qualcuno con la tartaruga può fare quelle bombe qui. Grazie. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ho la soul stone poi tieni conto che puoi farle non sai qualcosa per riparare che sei da 49 posso mettere rilasciate pure rilasciare tanto quella che ne prendete il diamante state qui ho visto che siamo un po' anche lentini a muoverci dalle pozze che crea se volete ve le chiamo sai cos'è anche andrea è che 10 yard dal leader si chiama delle cose infuocati veramente tanti cioè quando ti trovi proviamo a scostare un po di buio allorno almeno dammi di bisogna un'altra cioè chi ai cerchietti può eventualmente passare sotto il boss e andare nella posizione dei tank questo perché uno quando vi sbalza non vi sbalza in giro con il cerchietto rosso e non fate danno alle persone vi sbalza contro il muro qua questo muro di fuoco non fa niente quindi uno o due di quei cerchietti possono venire praticamente dove ci sono i tank verso il muro e noi i tank ci spostiamo da loro questo potrebbe farci vederlo ho sbagliato io già intendevo le trappole fanno danno entro i 10 yard mica certo punto adesso facciamo che magari anche le puliamo abbastanza bene verso il 40 per cento possiamo spostarci anche più verso l'interno a san carlo che magari c'è più spazio adesso è andato bene fino al 50 per cento e pozzano ha messo molto bene le ha messe anche abbastanza sui lati il problema è che fai gorm nell'esatto momento in cui dobbiamo allontanarci e quindi qualcuno riesce a castare se castano e vengono interrotti però ci sta il noi di cap proviamo a gripparli tutti tutti verso dove stiamo correndo ce l'avete il doppio grip sì io sì quindi grippatelo una volta poi correte lontano e lo grippate un'altra volta ne prendete uno in target e grippate sempre quello anche a sentimento smi e nico darkness di bolla quando vediamo vedete che sta marcando male tirate va bene perfetto 5 4 3 2 1 time to analyze your threshold for pain lockback and verso sinistro da te andiamo knockback in arrivo quando il volto è molto più e da per me per le poste rotte tra due secondi add era 5 secondi or lalva a terra andiamo andiamo otterlo al bordo veste corri 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 con le trappole riuscite a pulire questa forza qua che è... è in mezzo le cose non hai nulla grazie no, non prenderlo Raffa no no un melee può venire dietro coi tank stop match andiamo portalo bene qua che tanto non li attiva adesso add in 5 secondi mi metti una bolla sotto i tank roar cazzo adesso tranquillo sposto iero sposto iero muta valterra ah cazzo qua in corso lento eh white why? why? non 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un po un po parola bomba non era ci siamo incastrati qui non c'era solo apre che ha privato attivato queste tre no, due è una rimasta prima una è rimasta prima perché hanno pulito una io e ce n'è una ancora in mezzo no, intendo le colonne siamo morti dalla provocata delle colonne io sì io te lo dico ti trovi in mente sì perché eravano troppo vicini ok dai quasi schiava quando fa questa sbrettata qua che non mi ricordo se è la terza sincronizzato fa anche lo sbalzo è quello che ci frega dobbiamo tenere un urlo ne fa due bette fa due set di trappole e poi fa distruzione l'ideale è che dopo le due andiamo direttamente al centro e no perché poi lui attiva le tre statue più vicine a lui quindi se lo teniamo sul bordo sappiamo quali tre attiva però se lo teniamo tipo cioè tipo se lo tieni qua dove c'è il pallino non sai se attiva le tre quella in fondo destro o quella in fondo sinistra però se lo teniamo su le due laterali sappiamo per forza quali attiva e se facciamo quello cioè dove vuoi arrivare che lo portiamo al centro già così non dobbiamo correre lontano tanto esatto ma possiamo portarlo un po' più al centro quello possiamo farlo è tipo vi sono sei scagli al centro se lo teniamo in quella qui che si vede a destra sappiamo che sono per forza le tre di destra cioè tu dici tipo se lo porti qua so a quella che sta un po' più avanti quella più avanti più avanti ancora questa? no quella dietro qua ah su queste punte qua dici se lo porti qua sai che si attiva per forza con le tre di destra eh sì vabbè aspetto vediamo così mettiamo sì possiamo portarlo più in centro in traiettoria con quelle e poi andiamo a fare quelle nel caso così le liberiamo oppure no ma possiamo controvare e partiamo all'inizio prima quelli a destra poi andiamo verso il centro lo mettiamo lì e poi andiamo tutto a sinistra proviamo adesso vediamo un attimo come come il giro poi sulla terrazza forse si può sfruttare anche il suo il suo il suo per riuscire a muoversi in avanti comunque quello sì dobbiamo metterlo Beppe praticamente bene in traiettoria verso dove dobbiamo correre quindi teoricamente su quella terza corsa dobbiamo arrivare proprio su una colonna non è proprio facile però o in traiettoria di una colonna così sappiamo noi contro il colpo noi possiamo pure evitarlo no no dicolo per loro immagina che se lo portiamo in traiettoria questa statua loro sanno che devono andare sulla statua opposta praticamente quindi possono farci sbalzare in quella direzione però vabbè un po' più i ponimentali quindi ora verso te verso te no 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 andiamo a sinistra sento ecco il primo il primo viene ok 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 quante può stassi andiamo devo fare ancora un paio di passi così va bene non prendete le bombe se no una vita no plex andiamo andiamo ok portalo più verso il centro ok fermo lì fermo lì fermo lì eh così vedi così no no così così vedi così non so quale cazzo lì 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 me volo Mi baller Quando le attiva Bep Andiamo a si Cioè torniamo da dove siamo partiti Non è quello però va bene Andi in cinque secondi Urla palcarra Scente a correre, andiamo Attivate questa torta che c'è Va per te Un' la Valterra Un' la Valterra Ah è Quinta Quinta Difensivi Faro Devulsion Via a correre da la parte posta Per la nave da lui Reggi Bep Vedi portarlo più in mezzo funziona Ehm All'inizio mi attiva una Quindi non è un problema Quando mi attiva due è un problema Sì Si L'attiva due però E' abbastanza spazio E' quando Vabbè adesso a tre era giusto C'era spazio per andare Però c'è che so Questo era l'unico E' arriviamo senza urli e difensivi per questo Arriviamo senza urli e difensivi per questo Ok I need to get closer Bup 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 queste pozzette qua non correte come le galline in giro a caso cercate di fare dei movimenti piccoli se dovete spostarvi anche se siete in milì teoricamente dovreste stare fermi spostarvi solo se siete due sovrapposte e poi gli altri si spostano di conseguenza e ripeto potete tutti i milì che non ce l'hanno possono venire dove ci sono i canti dai 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 Giorgiovanni 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 No Poi quando ci scostiamo Berk portalo pure dove vuoi, là qui dentro, dove c'è spazio Torniamo dalla parte posta Bene bene, su bordo Spacutato poi E abbiamo Urla Lufa Grazie che ha pulito qua, è spazio qua E' su bordo qua Poi lo porti sempre verso questa direzione, però qui verso il centro E' di qua Tarra, stai pronto? Torniamo Atta fra poco Siamo in servo Andiamo a po' Devo porto il posto No Se questi due mi frega sempre Urla Valterra Urla sempre Pulite quelle due lì in mezzo, per favore Valterra mi paremmo ammuttare Vicino al boss Valterra urla Sì 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 Grazie per aver pulito le troppe Poi ne attiva 3 dopo questa, eh? Ne attiva 3, però non ne dovevo ammazzo Andiamo a muover su Guarda, mi tolgo Sì Che lo hai spinta Adesso lo mettiamo bene in traiettoria con questa Qui c'ho acchietti Difensivi personale Sì, tieno qua, tieno qua Non di più Sì, capito, non di più Guarda, breve Minigrip no test Un po' cussato Siamo Occhio, dobbiamo correre Qui ci sono gli add Difensivi? Tira il tuo Niente Beppe, bolle 3, 2, 1 Pronti a spostarsi da qua che fa un sacco di caccia ora 3, 2, 1 Andiamo Non passate sopra le cose Tranquilli Mantenete la calma Dai che Luca Ti torna l'urlo tra poco Ma mo' attiva? Mo' le attiva tra poco Fate di sbalciare la volta Tu roba No, faccio io, faccio io Tieno qua, tieno qua, tieno qua Via No, ragazzi Tu ci sei chiusi Buone 9, urla Salvatevi Correre, capite dove è ligero Ma po' Passate dentro, piuttosto Tiratevi un rischio in seno Marked for disposal Va bene, è solo questo sfoglio Comunque anche le pozze vanno gestite meglio perché continuano a muoverci E però lì da quando ti devi muovere Eh, per forza Non è che puoi lasciarli muovere Quando si muove è manata Non so così Per me No, qui Il baga ha il 10 per le Tutto quello che ho visto Infante oggi che stai avuto guardavo Bisogna riuscire a pulire un po' più il centro dalle Dalle trappole Ma ad un certo punto No, allora Ci sono quelle due che scazziamo io e Beppe Soprattutto io che Mi trega Sul secondo sbalzo ho bisogno di un roar Per arrivare in fondo E fargli lasciare le trappole È sempre giusto Uno tengo nel fuoco Uno tengo nel fuoco Mi porto il bordo e mi piglio il fuoco in faccia Non so quanti danni faccia Un 140k a botta E la sbrettata Fa vedere quanto fa Fantastico al destruction Un milione di danni Forse non sopravvula Ho spiegato perché ho visto due gol e morire E le sbrettate E le sbrettate E le sbrettate Il lancio pur io è uguale No, però magari non c'era Dovrei fare a sopravvivere No, ma se no basta che guardiamo E quando lui sta castando Noi ci allontaniamo Ok, poi facciamo un'altra cosa Quando chiamiamo gli add Sì o no? Ho trovato qual è il tutto Almeno i ranged giratevi di spalle Iniziate a pestarli fortissimo appena escono Mentre i milipo cussano quello vicino Potremmo Potremmo mettere due portali Non penso sia quello il problema che non riusciamo a correre Se tu ti dessi Proviamo a giustare quelle due portali Vedrete che vado a lei Se tu mettono lì ma cino in mezzo Poi fassi in mezzo tra qua Dai dai Sì 10% ragazzi Lo porto il Prime Dai E' nostro, è nostro Scusate un secondo ragazzi Mi devo buffare, please Quindi Arrivi a ritardo Poi run Eh, lo so, scusate Se dovete farmi un giro di buff L'ho certo Faccio giocare con Malduardo Ma andate che adesso diventa camicone Eh, ho visto eh Necchino Dimmi Da qui Da dove partiamo Tu quindi vai verso sinistra Giusto? Sì, allora lo porto Guardate per terra i due simbolini Le prime due Pozze Li facciamo attivare con la pallino E Perché non mi mette il marker Poi li sta mettendo il mio computer odriato Li sta mettendo Ok Ehm Prima quelle due E poi le altre due che gli facciamo attivare Sono quella sul verde E Quella sul nuovo pallino Ok E poi lo portiamo in una posizione libera E poi andiamo un po' a sentimento sinceramente Vediamo dove Di solito dove è più libero E per muoversi in sincronia Se no ci blocchiamo dietro un muro di fuoco e non riusciamo a seguire No, no, hai ragione È che io e Beppe A me piace il senso orario E lui piace il senso anti-orario Dobbiamo andare a decidere chi si molla Andate per lì in orizzontali Siete bene? Perché una delle due si allontana dall'entrata e ti è più giusta? Siete bene Siete bene Allora Redi cerca ancora Giungio, giungio, secondo Sto settando due cose Ci sono Siete bene Siamo molto bene tra queste due E poi facciamo riutilizzi 그런 Allah ecco le andiamo via bravo fermo qua state attenti si prende il boss knockback per 5 secondi come una bomba forse meno che non le ha di fianco o meno andiamo add dobbiamo stickere gli add e correre ero accato ok sciacchetti ok sciacchetti adesso portalo di qua di qua devo dire adesso ok le bombe è per terra benissimo poi andiamo al centro qui vola sotto i miei nesmi martus mi andiamo verso l'entrata praticamente dove sono arrivati bravidissimo muzzo darkness allora iniziate se riuscite pulite le due opposte al boss quelle verso la colonna forse il bosco riuscite a pulire le traccele prendi il boss dopo questo andiamo più verso il centro ma non troppo la terra urla da poi tra breve non seguite il boss non seguite il boss ok andiamo roar knock 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 urla add in mezzo prendi il boss ecco ci scostiamo blind tirate due rass e mi sa che ora lo voglio tenetelo, tenetelo secondo ehm figliato il video no, da breve Luca Toro, preparati prendi il mot non procedo io per sbaglio va bene così correre vogliamo andare qua dove ci sono gli altri rivolto Luca rivolto ci siamo però dobbiamo stare attenti a a questa sbaglio se non è ci frega qua perché ha fatto questo poi è fatta dobbiamo solo stare attenti quando ci dobbiamo solo stare qua che ci sono le trappole sui cittadini c'è poco spazio si accumulano tutti i cerchietti insieme alle trappole ci sciottiamo tra di noi quasi tra forza smette spessissimo due cerchietti su due personaggi vicini dobbiamo essere di prendere vai dai secondo me non non dovremmo secondo me per questa fase arrivare a fare un giro completo dovremmo lasciare più che altro lasciare qualche cosa al lato libera e magari fare una doppia fila più da un lato dove facciamo scoppiare perché arriviamo che siamo circondati e qualunque ci sbalza prendiamo una pozza quando è così piena non mi stai lasciando il tocco è non fatto non ripasciare dana il film è un paio di pensare un'app vediamo come può funzionare facciamo queste due facciamo queste due e li tocciamo qua e li diamo a fare mi pagherà e li diamo a fare No, 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 no. Scusate, ho preso il riparino, se no torno su o muoio. Eh, sì, potrebbe. Ma adesso sto a guardo, cioè... Allora, così, blu... E poi ci mettiamo il testo... Ok. Allora, non vengo ancora qui. Ciao riparino, un riparino o... Un martellino. Riparino. Non mi suicidi. Grazie. No, no. No, no. 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 l'idea che continuiamo a muoverci verso sinistra sempre quindi adesso proviamo a farla a stella adesso pallino e poi andiamo più verde muoviamo via cerchiamo di farne sempre due o quelle laterali queste queste due fa sul verde il boss deve stare sul verde prendi il boss e la scala occhio ho fatto troppo di z vinta via tranquilli non sta tenendo la porta lì che tanto dobbiamo correre fuori vediamo vediamo dove c'è la luna noc raga però non pulite quelle dove c'è il boss si dovete subire dalla parte opposto del boss noc non c'è l'entra dove c'è viene qua, fermo qua, fermo qua add guardate il test iscriviti Qua è la BEP che dobbiamo fare con il tank che non lo sta tankando La seconda il tank che non lo sta tankando Corre già dalla parte sposta e lo taunta da distante Che sbarò? Che sbarò? Che sbarò? Che sbarò, fioi? C'è chi non è sbarò? Dai, 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 dai Dai, cerchiamo di non schiattare all'inizio Tiratevi i difensivi, curatevi Questa è una mania, ston, ston Previce che sboro hai da? che sboro smi quando zuna neve indora? a te pare che te sbora? a donna 5 4 3 2 1 eeeh, ci muoviamo 6 3 2 2 2 3 2 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 15 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 18 17 30 andiamo verso la luna scugliate, prova artata faccio prendere S2 sulla luna, quello in verticale andiamo a sinistra pulite, bravissimi metto il borgolo ancora sul borgolo, grazie metto quando ci muoviamo no, 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 ok, no se dice forza lo sembra che io debba fare qualcosa andai murla HAD, breve error朝 vediamo sul viola veloce Riuscite a pulire quella esattamente al centro della stanza Musso darkness, vai shaman difensivo Nel bot, tienimo il popasca 2, riportiamo verso la bomba Andiamo Tanti pro pack Valterra stai pronto Urva Valterra Siamo attenti Ad in 5 secondi Dobbiamo andare verso il blu e la spella Arrivano gli altri Roar Fate la bomba al centro qua Tieno qua adesso Taro, devotion Taro devotion Taro devotion Opiek knockback, non fatevi popolare Difensivi personali appena parte il cast No, dispensivi Ok, adesso altri difensivi ce li avete, riuscite darkness Mettere trappole tra poco, bette, tutto stiamo verso il centro Ok Usate le pozze che vi sono tornate Tutti difensivi che avete, pronti a correre Siamo, core Andiamo di là, dove è pulito Esattamente dove è pulito Dabba Metti la bolla e puliscimi le bombe dietro, per favore Che non faccio niente Tiro questo lì Non ce l'ho Tranquilli, spostano un po' Andiamo in mezzo, vai in mezzo Tutti sul boss Rompete sticchetto di arco Tutti sul boss, nuke boss E lontani dal centro Cioè, lontani dalle bombe che adesso vanza Kira usa il tuo difensivi, cioè il tuo Matta Fala, bollatevi Quanto è spostarsi da qua, che vale troppo Nuk, nuk Usate tutto Vai si jackal, tranquilli Nuk, nuk Nuk Dai, 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 dai Massimo, nuk Nuk, 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 nuk Nuk Grandissimi 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 Gigi Ottimo 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 Dove, vaga Vario E poi Qu'è sto trick Qu'è sto trick Il team Il team Il team C'è anche un fucilato C'è anche un pugnale C'è anche un pugnale che non serve a cazzo di Pugnale troppo dene Mi piacciono i primi tre loot come stanno uscendo Questa è zitta Questa è chest, giusto? Chest 434, sì Tu non ce l'hai ancora? Non ce l'ho, io ce l'ho già Ce l'hai... Perché io ce l'ho normal, se qualcuno non... Se qualcuno non ce l'ha, non ha lutto Perché ce l'ho normal comunque Quindi c'è già un pezzo Allora di... La tolgo Io passo, passo Se così è uno Già ci fa il maledetto Se uno si fa il pezzo delle set Ho ancora un trinket 408 Ho ancora un trinket 408 C'è sta, sì Che ci fai da un trinket alto? Ok, dai ragazzi, dobbiamo fare il prossimo Poi è più difficile rancare più alto sedi della... Invalido Che senso invalido, scusate Beh, è un bidone È un bidone Dai, andiamo a fare l'altro E poi tutto un mega fascicone di gruppo Dai Un cerchio o... Posso sostenermi? C'è un dipietro Proviamo a farlo in cerchio Fai l'ar... fai l'arbitro Ok Non so... Noo... Non so se l'arma Devi fare un 98 per l'arma tanto C'hai capito? Facchino sei proprio un fettuso Hai vinto l'arma? No, non mi dire No, Galli Galli C'ha una fortuna Luca Galli fa veramente... Si fa paura Dovresti andare a giocare qualche gratta vincida Rico Galli si accettano anche se il numero è preso poi è nell'otto E uno non è che schifo Anche un 5 va benissimo Non facciamo gli esosi Ah no, è vero, c'è coso? C'è... C'è... C'è smì Giovanni Giovanni scendeva qua Giorcino Dov'è che sei andato? Ti devi buttare nella lava da... Ah, ok Da la piattaforma principale Oi, oi, oi Dai, fio Ai che bei che sei mo Non superate la linea che... Parte Splatter Chi paghera stasera Go Chi pagheraha La genteuda Come stai Ag journalism? Come stai Aska? Come stai Aska? ea matitato tornare dal posto non avrei boss ma io ho preso una piastra di metallo perché il boss è invalido la trascina amica c'era una roba per potenziare i pezzi all'entrata apparisce ma che hai preso qualcosa si è dimenticato si riparte da mai molto di più dritto dritto per dritto comunque il toro bravo è arrivato qui a no scusa il tipo per rubare di fango a scala no non voglio rimanere subito salvo ios grazie anche tattaruna cilati capo anche d'abba no e sono uscita dalla lava tu ti salvo tutti metà aria così casca parliamo pure una bolla a casa amore no di più che bolle di bolle to sacrifice blessing of freedom tu guarda quanto corro con bocca di gambe larghe vettore da indoor wow ah lo stavano io vabbè la combo non c'ho più niente 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 se mi buttano nella lava mi combatteressi anche si 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 che sboro mamma mia che sboro ma ti pare che t'andoro bella ci appagheremo come sbricce oh come avete capito cerchiate rossi aumentano il dps oi 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 vai fioi vai che bei che sei mo ma che cacchio eh c'è te bevuti stasera c'è un eh le ombre le ombre le ombre siamo eoforici c'è un ombre ho fatto 700 mila euro eh vabbè mappaculo allora hai vinto i 700 euro more more me fai un sprit more 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 fettini si cazzo stai dicendo smith non essere volviare detto da te non essere volviare coglione la critica costruttiva si madonna che è caldo ragazzi è arrivata l'estate l'estate un trasm occhio che viene fuori ragazzi ho deciso di non mettere ho deciso di non mettere il set perché mi rovina il trasm mi ricordo più boss era single target anche lui giusto? si si singolissimo questo è patchwork shaka niente range non andare a testare range di vicinanza che buono allora un attimo cambiando praticamente target a tre persone emette i cerchioni grossi di lava quindi le persone lasciano giù la pozza di lava grossa e tutti gli altri devono soccarla soccato più la si socca sparisce e dobbiamo farle sparire sempre tutte praticamente in eroico la differenza è che se prendete 25 stat vi shotta di queste pozze qua poi fa dei cerchiatti piccoli che vanno soccati idealmente chi ha già soccato una volta non dovrebbe farlo la seconda successiva perché altrimenti il dot che gli lascia stacca anche quello pare un frontale a cazzo e poi fa un knockback devastante noi lo teniamo lì in quel posto quindi dovete stare da questo lato della stanza per evitare di finire in mano sì io e Joe dobbiamo tauntarcelo ogni tre start o sei start non mi ricordo e quando arriva l'energia we part ride allora come lo facciamo lo facciamo così allora adesso metto tra marchietti bellissimi puoi dividere in tre gruppi come tre gruppi sei gruppi ma non mi bastano le schede non è indifferente cioè non devi bilanciare dps aspetta allora ok ma quindi devo tancare io non tanca bett come vuoi eh tanca bett ormai c'è preso una mano ti è già girato di pie non lo sai allora adesso io provo a metterli così Marte vediamo se è abbastanza lo sa così allora come facciamo facciamo tre gruppi ora quei tre gruppi di persone saranno ognuno sui marker e ci devono stare fermi tutti cioè quella sarà la loro posizione dove dovrete tornare sempre quando mette le poze sui tre giocatori si a me per se di bm già mette tre marker metti facciamo così aspetta come si chiama ecco sanitario qua totale e stessa altri gruppi come si allora mette già i marker stella pallino e viola dove dovrebbe essere stella 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 e mezzo pallino alla destra come ragazzo che è viola sinistra allora praticamente cosa succede mette vuol stare tutto sotto boss mi dico si basta che poi andiamo a fare shock però proviamo così e e cinque sei player per spozza shock tutti sotto il boss il crockback è abbastanza forte tipo quello di datea proviamo una volta così con quei tre gruppi che se voglio vedere come va poi andiamo tutti sotto allora i tre gruppi stanno sui marker e praticamente anzi facciamo che stiamo tutti sotto il boss cioè tutti sulla stella poi i tre player che verranno targettati gli verrà messo la stella il pallino e il viola andranno sul proprio marker in modo da lasciare la pozza lì e quindi quelli che siccome saremo tutti sulla stella semplicemente fate un passettino perché il cerchio è piccolo e poi un grosso mi ricordo vabbè insomma adesso vediamo quando partiamo la pozza andranno su questi tre marker e poi i gruppi come li dividiamo che saranno facciamo 1 e 3 2 e 5 no perché ci sono i leader divisi no come vuoi si facciamo fa niente tanto siamo tutti in range anche gruppo 1 e 2 soccano soccano la stella 3 e 4 succhiano il viola e 5 e 6 succhiano il pallino quindi mi scrivo anche scusa mi andrò è tutti insieme cioè tutti e 10 tutti ok poi a lungo andare quando il fight va verso la fine chi ovviamente vicino alle 20 25 stack non va a soccare o si toglie dalla pozza beh non dovete arrivare a 25 teoricamente non dovremmo arrivarci perché se siamo tutti a 25 vuol dire che dobbiamo cambiare tattico quindi facciamo una prova quindi tutti sulla stella i 3 player targettati vanno sul proprio marker mi raccomando guardate sul vostro marker e poi 1 e 2 si fanno la stella 1 più 2 star 3 più 4 purple e 5 più 6 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 2 1 5 5 5 4 5 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 15 15 16 16 15 16 Tutti potete vedere Toc Il bot Bretta Urla Luca Potte Daba Viola Già Pistella Mareco Lino Toc I gruppi Knokback in arrivo A centro Portiamola in posizione Urla Valterra Toc Potte Mi Viola Mi Follino Buzzo Darkness Via Buzzo In arrivo Sbanzi Pizzone Toc Pallino Valterra Viola Gruppo in posizione Troppo Defensivi Lilla Branco Devotion Troppo Troppo Travista Resta Controlla quando sbalza Tra 12 secondi, forse, tocciamo queste porte, poi e poi sbalza Resta d'Arcy Resta, tocciamo le porte, poi il knockback Dopo il knockback, via al centro, centro, centro Offensivi, bolla di batte Via da davanti Tutti sotto, bravi Bravi, bravi Forse in arrivo Posizionatevi, pronti a entrare Tiragli una soccata anche tu ogni tanto giù Eh sì Via da davanti Brescia, brescia Brescia, brescia Brescia, brescia Brescia, brescia 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 Ciao U Urla Luca Toc Brazzo, tra poco Destroy chiamani, buttate il totem, se ce l'avete Via da davanti Knockback a 20 secondi, mi muore prima Difensiva manetta Non fate il soft Difficile sto boss No vabbè Non vi lamentate Non vi lamentate È un meme Che fatica È il defaticante È un meme questo Ragazzi per chi ha un pezzo Deve operarlo all'eroico del set Eh parla poi magari Eh no no ha parlato Allora è meglio Se siete generosi lo lasciate E se siete meri Per dare il regolamento C'è scritto che più 6 tem level È un miglioramento E quindi potete utilizzarvelo Tanto i pezzi arriveranno per tutti Ovviamente in questa stagione i pezzi del set Fanno tanto Quindi Guardate sui loot Chi lo sta lootando E magari Se lo lasciate è meglio Tanto questo è invalidissimo Adesso servono un po' tutti Quindi Vedete Se lo lootate Nessuno vi Vi flammerà Perché È un miglioramento Tanto adesso Poi faremo il normal Poi Tra un paio di settimane Uscirà Il coso per Spero che sono tutti Hunter Mage Druid Dico Il miglioramento È un miglioramento Di valito Anche qualcosa Che agli altri Ok Direi che 11 e 10 Andiamo a fare un BG Che Caronte vuole fare BG Allora Abbiamo Opzione 1 Andiamo a fare I primi tre invalidi Normal Opzione 2 Iniziamo a vedere il prossimo Io sei il prossimo Bravissimo I primi tre Hai un voto Oppure abbiamo un salvataggio Direttamente a quelli Dei pezzi del set Abbiamo già La parola Dai andiamo a fare il normal A quelli coi pezzi del set Oh grande Luca Toro Sei Oh no Per uno Mamma Siamo vicini Siamo vicini all'entrata Se prendete Guardate che dovete prendere La Dove c'è il verde C'è una roba Per tornare All'entrata Ah il fuoco Brucia Paracito Ti faccio Red leader C'è la corda Red leader Che sboro Edo Che sboro Ho prestato Red leader Che sboro Guarda se c'è Diviso online Se è giusto Un po' Faccio colpo di stato Contatto Diventiamoci Anna Diventiamo Diventiamo Ci rubiamo Tutti i soldi In banca Vero Taro Ma che posti Merda E cosa L'ha fatto a fare Scusate Non è il boss E che il problema E supera quello Prima Arriva a questo E se Defaticante Come ha detto Il buon Ascala Giovanni Non è che Non è che Prima Siamo noi Che siamo Bravissimi Comunque Abbiamo fatto Una dozzina Di try Dieci C'è una parte Di scherzo Comunque Il DPS C'è Quindi Che sboro Che sboro Adesso Ha fatto tutto Quello Prima Era Tipo Wandwing Dovevano mettere Magari Questo qua Come Al prima Ok 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 Il permette Normal Hai guardato Quante sta Ti fa rilassare Prima dell'ultima Dai Se pensiamo A quanti tre Abbiamo fatto Da handwin Madonna Abbiamo fatto Nove Non credo Vedete che Dentro io Fatemi Penetrare Appunto Dieci Trae Vuol dire Che la prossima Molta Che lo Facciamo Preghiamo Sai O Se Vedrai Saremo Due Due Serie Tra Yarno Di Poi Avremo Anche Venti Dior Andiamo Da Racco Adesso Facciamo Entrare Sì Sì Venite Venite Tutti Ovviamente I primi Boss Allora Lunedì Continua Finiamo Il normal Un'altra Volta Quelli Che Mancano E Se Avanzatempo Facciamo Anche I primi Tre V3 Ah Ok Tutti Il normal Sì Perché Qualcuno Servono Ancora I pezzi Dei primi Tre Che sburo Che sbolo Edo Che sbolo Edo C'è rosario che ti tedia dillo di da papà rosario papà capire come funziona sto trinket della bomba se tu lanci una bomba ogni tanto ogni tanto ci si piace di esatto ogni tanto cd e possiamo andare a fare raccoglio detto franceschi allo franceschi allo ciao luca ho detto qualcosa a dire ho scritto ciao troppare sudate scrotto spellato del lago coiata vabbè c'è perché lui per questo dobbiamo accompagnare mi titola sfero e consapevole di ciò è scritto perché adesso dire essere troppo anche la verità la verità babb io con sciacca dico solo da che non vedo l'ora di dominare quando uno sport ex lo swiffer non so poter assorbente lo swiffer mi vorrebbe di sentire hashtag vaffanculo ti dico edo hashtag vaffanculo hashtag vaffanculo hashtag vaffanculo hashtag vaffanculo hashtag vaffanculo la sottile linea rossa la sottile linea rossa la sottile linea rotta diverso shaka quando vieni quando vieni qua andiamo a fare la sfida un chilo di carbonara e mezz'ora ma non posso io sto dietro non posso fare queste cose ma quando ricavita shaka la tira che è che ha tirato la leva così mi piace l'ho visto l'ho visto l'ho visto possiamo uccidere il nord lo possiamo fare no non bisogna uccidere l'ana basta uccidere il boss e toccare l'ana il problema è che aspettate che stiamo per startare il boss quando siamo al 2 del controlla rovescia tocchi la leva beh non sembra tantissimo cioè alla fine è solo una rama tu sei un barbagianni stai ricontattando Leandro il tuo amico Leandro il mio migliore amico Leandro no il mio migliore amico è Avian ma no mi scrive ciao come va sto da fare le prasi e poi gli rispondi beh sono un finito Leandro, Leandro è quello che non parlava quello stranissimo quello stranissimo quello che non parlava ma posso dire di Togliaro che sto pievando tutti i dobi dove usavano il liceo dai dai che riusciamo a fare il protettore secondo me secondo me assaltatore assaltatore secondo me è un malato mentale ma tu l'hai incontrato avete fatto l'amore appunto appunto dico malato mentale per questo ho conosciuto paladino lo facciamo come in eroico la prima pozza va sul verde perché partiamo già tutti verso il verde adesso non superatele paladino benedetto paladino paladino c'è il portale c'è il portale infanno attenzione meglio cliccarlo secondo me è da cliccarlo c'è il pull ridotto così c'è la grafica la location 1 yeah ma loro non non sa cosa eroico partite già sotto il bosco adesso tanto avete 4 sui verde scusate sofferto anch'io sofferto si vorrà anche fare il sofferto per il culo dell'osso non ti temo sei normal vai pronti fare i torchettini torchettini bombo lo io prossima pozza sul pallino ne sovrapponetela con l'altro ottimo quanti stoppone tutti bulla smi bombo tuttani ok pronti ad andare sul viola alla postona e noi poi mentre lui salta andiamo tutti sulla stella vai sul viola sul viola andiamo sulla stella vabbè però poi ci vediamo giù neanche tutti attivate fa molto meno come velocità leggermente attraverso 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 fortissimi scriviamo tutto quanto overhealing tutto sulla luna pronti sulla luna guardate dove la luna la luna è di bella vai io ho 13 fps qui lo sei prima in culo scherzando tasti a caso c'è l'hack hanno talmente tanto le cure che arrivano al momento giusto ok il prossimo posto la mettiamo sul pallino bravo necchi si è fatto il barbatrucco mamma mia mi permettevo i marker ma guarda sei un professionista che sei sprecato pozzo sul pallino date il pallino dov'è vai quel socchettone grosso tutti davanti benedetta bolla nuke boss di ignoranza cerchi se ne va via anzi non ci arriviamo nemmeno padrone dai ragazzi madonna ragazzi c'è anche un bel distacco di golferra ne convenivo prima con l'allucatore o primos buoni calma con benedetta ma non è un calzo perdicato ma non è un calzo perdicato ma è a caso secondo me ma come ti devi piangere facendo perdicato adesso in personale ma è uscito il set ma dove no no sì ma io sei di cap lo posso io lo need the race che così faccio il secondo pezzo io lo gritto soltanto per provare ti abbandonano tutti quindi devo superare al 94 c'era già che veramente gli esperimenti no 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 sono fatti i quali bisogna andare avanti ah ok e chi c'è quello di quello delle bombe quello delle bongole quando li abbiamo fatti gli esperimenti no li ha fatti gli ha fatti gli Ascalon prima perché è un monello perché è un monello io devo andare il GM di distro di farli e poi non ci partire da qua se è una monella resta con noi non c'è ragazzi non direi ha visto un catopo a Imo ha detto mamma sì è la depressione scusate non flizzare questo è un pesa va bene ciao ciao ragazzi ciao ciao buonanotte 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 gulegandi il rollone la Gali è una macchina di occhista e ma Gali potrebbe essere anche un po' generoso eh infatti se facessi mi fai il monello ragazzi capito che sei il regista ti dobbiamo pagare perché sennò ci fai fare brutta figura nei video anche fare 100 no però agronini piai anche la spesa gli esprits ho un déjà vu anch'io come se facciamo qui da poco abbiamo abbiamo il padre la base ha detto con voi non gioco più non l'abbiamo restata c'è offeso ravanello c'è un ravanello oh si è addormentata su una tastiera tra venga lì tiravano sentiamo se è russa ha avuto magari un attacco di squadra ha avuto la rucce ah ma che è un'altra ma che è un'altra ma che è un'altra con Shaka in arco si hanno messo troppo i watt nell'impianto che sbora aggiornaci la maledetta canzone offline ragazzi devo pisciare fai come Smee non lo fa davanti il cadere a cannuccia no no vabbè ma lui lo fa per il piacere non lo sapevo questo è bellissimo lui lo fa per il piacere però quella cosa vedo eh piacere si reitrata eh beh fanno tutto insieme oh lui nel deserto sopravviva si imparati bene si non lo sento nulla ragazzi ero distrattissimo stavi facendo pipì no mi segavo mi segavo proprio min fortuna che la raffa non c'è fortuna fortuna non avevamo ancora sblocato tutti tutti i livelli di sblocco tutti i livelli di sblocco mi è infinito esatto c'è sì c'è 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 la mia tengaro smith la stoffa sotto la stoffa sotto c'è 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 bene come dedica per youtube 3 si direi è un mali posto partiamo sono una mucca no che belle battute non mi hanno passata la verità una vacca ok vediamo come abbiamo fatto prima andiamo a sinistra andiamo bene oh ma quando è che l'hai startato tu vedi pulite questa qua dove ci stiamo movendo vabbè è un danno infimo questo non si rispetto all'altro beh se stessa eroe urlo lulo poi qualcuno si fa le bombette di non so 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 fai meno agro di tempo non può andare a farti le bombe vado andiamo verso il centro finita con l'aluminaggio molto bene che sbora fuori l'altra parte era per distrare il boss che brutto manco due armate posso usare da quanto durano poco queste merda vuoi fermiamo il dps e guarda l'altra roba allora finito un altro trinca li tenete 5 minuti per il prossimo quindi facciamo anche quello 80 gente vuole andare a dormire io ci sono vai è un dubbio 5 minuti, durato 4 e 30 in eroico andiamo solo a fare un po' di trash vai 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 andiamo giù andiamo giù andiamo giù andiamo giù di qua e anche addormentarvi un pelino durante la file ho già fatto due ore fa allora tu sei carico hai già fatto il peso oh ho questa con velocità ma la 5 minuti, almeno 5 minuti sto boss, prossimo Sì sì, 5 minuti Ah, i trash, è vero, la prima volta mi scordo che ci sono quelle creature Esatto, me le fai tu 3 Boss, mia è una creature orribile, oddio Ma a me è una persona magnifica Magnifica, bravo Guarda, giuro Magnifica Quando mi mora il criceto ti aduffo In gabbia, mi metti In gabbia, mi metti Dentro la rotella, mi tiene quella della ruota che gira Si, tanto le parole le fa girare, quindi vai bene Arrivato Ah, attenzione Saga, è scatenata il saco Mario Mero l'ha arrivato Arrivato Bruno Vesco Mario Mero Ah, sì Mario Mero l'ha più andato Mario Mero l'ha più andato Il Mero l'ha più andato Mi rego ecco Per me Ah, moio Turambarti salvo io Salvami Turambarti Mi mette Oh Ehm Aspetta, c'è da fare questa C'è da fare questa C'è da fare questa Sottonei Sede di plastica sono un connubio mortale ragazzo Ma io, ma io c'è da plastica Non c'è la tulla con il prono Dico Ma ma c'è una sede sfasciata Anche una taglia di porcellana Giocato il bidet Nudo Vedete che fessuti Accendi e Uh, c'è un nut Mio Chissimorosi in fire Un minuto Oh Un minuto Siamo in grado Vito Come è il trinca di questo posto Ma come è il primo Ma è il primo Che bello Abbiamo tre casse eroiche Erotiche I gruppi sono quelli di prima Ribaffate, please Portanti è già sborato Che sboro, Aska Pruttissimo Andiamo Ho visto, kinder, ti ho visto Eh, sa, arrivo Non è successo Oh, mini-show Scusa, mini-show Scusa 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 Non ti piace? No, non piace il mio pc Bretta Perché sta la firma Madonna Comunque prima quando mi frattrino, ecco, da un momento all'altro pensavo, non so Uscisse un motorite, un NAD Sì, qualcosa di impossibile da fare È troppo serio L'ho detto che era un pilote È veramente meschino Già lo so Ah, c'è un posto C'è un posto No, ce l'ho con Nekki Come l'altra volta Ah, poi non lo dovevi fare a te che dovevi arrivare alle mie 20 stati, scusi Ah? Ah Anche le sbrettate che fa sto boss sono tristi È triste sta ragazzi Davide Dalì Riprendi Nekki Oh, al centro, al centro, al centro Edo, questo vuole essere un tanto amato sto boss E basta Questo è bellissimo Faccio aspettare però Questo ti fai la coppia con quello di... di Miltarion... sull'alto È tutto storico Che cazzo, vici Nooo Black Queen Ok Ma qui col D-Camp tu con lo scudo antimagia puoi evitare che ti metti una stacca di Sì Poi anche lo sbalzo non... possiamo evitare Seguro... Seguro ormai è... classico tutti i fight, c'è Voi come mi piace a test di... esatto Faccio Ti vedo sudare, Nekki C'è ancora la morte finta, è vero? Guarda, guarda, guarda Nooo Madonna, che brutta... che brutto che... Uuuuuh Aia Ti piace? Aia No, sì, ma non fa un cazzo in sto... sto patch Sì, ma per sbaglio, cioè... non è per sbaglio... Aia Che l'avessi con me Quanti stanno... ti sai la cosa più infame? Che a un certo punto mi ho fermato il DPS Cazzo... Oh, non è vero... Ti sentiremo il studio di antimagia o la sopravvivevo secondo me? Quello altro... Povero... Diciotto... no, a diciannove Eeeh... c'è diciannove Diciannove... c'è il video di Gali Andiamo a vedere... Andiamo a vedere... Andiamo a vedere... Andiamo a vedere... E tu? A quanto non sei arrivato? Uuuuuh... Ragazzi, ma la soglia è la porribita? Ah, quella è per la C, man... Ti dobbiamo curare a pallettoni Sì? Se la mangi, dobbiamo curarti a manetta... se muori e non fai la ki... Eh, allora, curate Aia Vai Va bene, ragazzi Molto bene stasera Ma dove via dalla foglia? Mi ha troppato qualcosa Anche a me ha troppato un pesce La platessa proibita troppata bene Ah, una platessa Eeeh... min one bite Io ho sottraturato, rimango Link un attimo sto coso, vedo È già mangiato Anche Santoro, un curatore Santoro? Eeeh... ragazzi, curate anche me Eh, ma ragazzi, una volta... È più difficile del boss, perché mi sai C'è niente Perché prendi una scatterba di danni? Murla, Valterra Prendi... 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 Quattro volte la tua vita Ah, c'è... Ah, c'è... Tenetelo... Tenetelo... Eh... Non ho fatto bene, ragazzi One bite Buonanotte a tutti Ci vediamo Buonanotte 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 Grazie a tutti.